Ciao, sono il dottor Antonio Sacchiero, fisioterapista, e ti do il benvenuto in questo video dove ti darò informazioni molto preziose riguardanti il reflusso biliare. Inoltre ti rivelerò come potrai liberarti di questo problema in modo del tutto naturale ed innocuo, come hanno fatto tutti i pazienti che hanno usato il metodo che stai per conoscere. Prima di tutto parto dalle basi, ossia dalla definizione. Cos'è il reflusso biliare? Si tratta di una condizione che vede la bile risalire dall'intestino tenue e raggiungere successivamente lo stomaco e l'esofago, provocando irritazioni delle pareti, con conseguenze gravi a livello funzionale in mancanza di una cura. La bile è una soluzione acquosa esotonica prodotta nel fegato ed essenziale per la nostra salute, per l'efficienza del processo digestivo. Elimina i prodotti di rifiuto, come per esempio il colesterolo. Ogni volta che ingeriamo del cibo, il fegato produce piccole quantità di bile. Il percorso fisiologico prevede il raggiungimento dell'intestino a una velocità controllata da delle fibre che costituiscono lo sfintere di oddi, un anello muscolare contratto durante il digiuno e rilassato nelle fasi della digestione. Il riflusso può essere di due tipologie, riflusso biliare duodeno-gastrico, in questi casi il flusso della bile risale fino allo stomaco senza raggiungere l'esofago, e riflusso biliare duodeno-gastroesofageo, in questi casi la bile rifluisce fino all'esofago, provocando l'irritazione delle pareti soprarricordate. Accade spesso che, soprattutto nella seconda di queste due forme, si affianchi a quello gastroesofageo e può essere difficile distinguerli, partendo dalla semplice rilevazione dei sintomi. Se nel secondo caso è però possibile tenerli sotto controllo attraverso un'attenzione allo stile di vita, per esempio modificando l'alimentazione, questo non si verifica con altrettanta facilità se non si rispetta totalmente un regime veramente antinfiammatorio. Ecco qualche suggerimento per riconoscerlo e per risolverlo in maniera definitiva ed efficace. La sintomatologia, come già ricordato, è facilmente confondibile con quella del riflusso gastroesofageo. Ecco i principali segnali di cui tenere conto e che possono essere legati alla presenza di riflusso biliare. Dolore addominale, localizzato nella parte superiore dell'addome, bruciore di stomaco, sensazione di acido in bocca, nausea, episodi di vomito di bile, tosse estizosa, raucedine, inspiegabile perdita di peso, alitosi, esofagite. Quali sono invece le cause della sua insorgenza? Ecco un quadro che può aiutarti a capire qualcosa di più. Il danneggiamento funzionale del piloro, che normalmente si apre alla fine del processo di digestione per permettere il riflusso del chimo nel duodeno, è la causa primaria dell'insorgenza di riflusso biliare. Il materiale in questione risale fino all'esofago, in quanto la valvola pilorica non riesce più a chiudersi correttamente. Le complicanze legate ad alcuni interventi chirurgici possono rappresentare una causa di insorgenza di questa condizione. I bypass gastici sono delle operazioni molto rischiose a questo proposito. Le alterazioni fisiche e fisiologiche determinate dalle ulcere peptiche possono causare la sua insorgenza, presenza di calcoli alla cistifeglia ed eventuali operazioni chirurgiche a suo carico. Come ho già ricordato, diagnosticare questa condizione non è facile, dal momento che è possibile, basandosi solamente sui sintomi, confonderlo con il riflusso gastroesofageo. Quali sono le procedure da seguire per accertarne l'insorgenza? Vediamo le più importanti. La diagnosi avviene a fronte di specifici esami, come per esempio la gastroscopia, il metodo di indagine più efficace per avere un'idea precisa dei dettagli della situazione e della presenza di eventuali complicazioni. La diagnosi, nei casi più gravi, può essere associata a quella di gastrite e di esofagite alcalina, principale conseguenza dell'influenza dei sali biliari sulle pareti dell'esofago. Un altro esame utile per diagnosticare il riflusso biliare è la bilimetria. Si tratta di una tecnica ambulatoriale che permette di monitorare l'eventuale riflusso di bile attraverso un sondino che dal naso del paziente raggiunge lo sfintere esofageo inferiore. Durante il monitoraggio è possibile continuare a eseguire la maggior parte delle proprie attività quotidiane. I dati utili per l'eventuale diagnosi vengono registrati su un apparecchio computerizzato portatile. Questa condizione si presenta con una sintomatologia molto acuta, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di dolore. Alla luce di questa situazione e per evitare complicazioni gravi, esofago di Barrett e tumori esofagei, è fondamentale agire cercando un rimedio adatto. Ecco le più importanti soluzioni naturali per combatterlo in modo definitivo.